Nel territorio di Isili, i primi insediamenti umani risalgono al Neolitico recente e finale. Appartengono probabilmente a questo periodo le Domus de Janas, situate vicino al centro abitato moderno. In anni recenti, a seguito dei lavori di costruzione dell'invaso di Isbarrocus e di opere di bonifica agraria, sono state rinvenute in varie località ben 17 statue menhir, tipici manufatti dell'età del rame, localizzate lungo il percorso del rio Sarcidano. Nei pressi della diga si trova anche la tomba di Murisiddi, attribuibile al periodo del bronzo antico della cultura di Bonannaro. La civiltà nuragica ha lasciato numerose testimonianze, con ben 32 nuraghi sparsi nel territorio di Isili. Nelle aree circostanti tali monumenti si rinvengono spesso tracce di abitati più o meno estesi. Per quanto concerne l'età romana, sono state rinvenute monete, laterizzi, frammenti di stoviglie, resti di poveri villaggi rurali e si osservano ancora tracce di strutture viarie e punti.